guarda questi signori grandi due per uno no questi lasciano quando vi arrivano le pacchette sono state le pacchette 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Pronti? Proposiamo anche il bidone Il bidone è sul bordo Il bordo è quello che è tutto blu Pronti? Via Anche di su Come vai lì insommarita quando usiamo il bidone? Sul bordo sempre con lo stesso ritmo Pronti? Non di più Bordo Adesso usiamo lì dentro del bidone Pronti? Noi non di più Pronti? 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 Justi? Allora chi ha le bacchette così? Chi invece ha le maracas le sbatte Chi ha le maracas le sbatte Non sul bidone signore Pronti? Adesso cambiamo Uno, due, tre Uno, due, tre Adesso ci aggiungiamo una cosa Uno, due, tre Siete capaci a parlare Ye? Proviamo Uno, due, tre Uno, due, tre Uno, due, tre E' finita Portanza la miseriaccia Pronti? Più veloce Uno, due, tre Yes Corre Yes 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 Adesso al posto di 10 mettiamo una parolaccia Yes 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 non so una parolaccia, tipo camolini andate veramente, camolini dai mare allora chi ha il bidone 1, 2, 3, yes 1, 2, 3, yes 1, 2, 3, yes 1, 2, 3, yes una volta col bidone 1, 2, 3, yes 1, 2, 3, yes 2, 3, yes 1, 2, 3, yes 1, 2, 3, yes 1, 2, 3, yes 1, 2, 3, yes è un po' che non ti c'ha con io 1, 2, 3, yes 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 Grazie.